Incidente stradale questa mattina sulla strada statale 16 in prossimità dello svincolo Bari-Picone. Due persone sono rimaste ferite e sembrerebbe trattarsi di un tamponamento fra due autovetture, una Fiat ed una Peugeot. Quest'ultima si è ribaltata nello scontro finendo sul lato destro della careggiata. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco e la Polizia stradale per i rilievi di rito. Traffico in tilt.